E ripartono le attività degli oratori anche nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Trani, un modo per aiutare i bambini e adolescenti a recuperare quella socialità perduta a causa dell'emergenza sanitaria e anche un modo per aiutare le famiglie. Il servizio di Marilena Pastore. Dopo mesi a distanza, in casa, relazioni annientate, tensioni familiari e incertezza sul futuro, la stagione degli oratori estivi è partita. Le parrocchie dell'Arcidiocesi di Trani hanno raccolto questa sfida proponendosi come ancora di salvezza per bambini e adolescenti con una grande occasione socio-educativa, capace di coinvolgerli in attività educative significative, occupando non solo i luoghi deputati e le attività oratoriane allocati per lo più nelle parrocchie, ma anche parchi, spiagge, aree giochi e attrazione della città tranese. Il GREST, il gruppo estivo, è un'occasione importante dal valore educativo, umano, culturale e spirituale, dichiara Don Michele Caporusso, coordinatore cittadino dell'Equipe di Pastorale Giovanile. La Chiesa cerca di farsi vicina ai bisogni dei giovani per sostenerli nel costruire i loro sogni. E questo è l'obiettivo primario dell'oratorio, l'incontro con i giovani per continuare ad ascoltarli di persona. Ci impegniamo, dice Don Michele Caporusso, per instaurare un rapporto schietto e fiducioso anche con i genitori, per comprendere quelle che sono le loro esigenze, le difficoltà, i problemi, ma anche all'ascolto di racconti di bene che vengono dalla loro esperienza di vita. In un tempo così difficile, l'oratorio incrocia i bisogni di tante famiglie e svolge un servizio prezioso, promuovendo un momento di incontro bello e vero tra ragazzi, famiglie, movimenti e associazioni locali. Tutto questo è stato reso possibile anche grazie all'operato di animatori, giovani, adulti, volontari, che mediante il gioco scoprono un'opportunità per stare insieme ed essere comunità, al servizio dei più piccoli, ritrovando quello stile fresco e coinvolgente tipico dell'animazione in oratorio. Non si tratta di guardiani o assistenti passivi, dice Don Michele, ma di figure che scelgono l'oratorio come ambito di servizio per accompagnare i ragazzi partecipanti, non solo dal punto di vista della sicurezza e della logistica, ma soprattutto in un rapporto educativo semplice, diretto e informale, fatto di condivisione del tempo e dello spazio, durante semplici attività come il gioco libero organizzato, i laboratori e le attività espressive come il teatro e la musica.